La donna di Serenio, la donna della sella Italia perciottieri, la donna del Giro d'Italia, eccola, uno spettacolo, Alice Arzuzzi. Prima Arzuzzi, Maglia Rosa. Alice Maria Arzuzzi, infine la scorsa edizione, tanta sfortuna, oggi ti sei rifatta. Sì, oggi mi sono rifatta, speriamo di continuare così perché il Giro d'Italia non si conclude oggi ma ci sono ancora quattro tappe. Speriamo di mantenere fino alla fine la Maglia Rosa e di portarci magari a casa quest'anno questa vittoria del Giro. Un bel percorso alla fine, quello allestito qui a Fiuggi. Sì, bello, era abbastanza duro alla fine perché è molto veloce, dovevi sempre spingere, alla fine non c'erano dei tratti dove riuscivi veramente a respirare, continui i rilanci uno dopo l'altro. Poi vabbè c'era il tratto sulla seba che si doveva scendere a piedi, insomma, sempre a tutta. Una dedica per questa bella vittoria? Vabbè, la dedico a tutta la mia squadra, al mio allenatore e alla mia famiglia e al mio allenatore che purtroppo questa settimana è venuto a mancare. Uno spettacolo, Alice Arzuzzi. Prima Arzuzzi, Maglia Rosa. Prima Arzuzzi. Prima Arzuzzi. Prima Arzuzzi. Prima Arzuzzi. Grazie a tutti